Ciao a tutti ragazzi, io sono l'unico e solo e oggi siamo finalmente tornati su Brawl Stars E ho deciso, siccome da pochi giorni è uscito, cioè da pochi giorni da poco è uscito questa modalità, l'assedio Con tutti i lag bellissimi che c'ha questo dispositivo, ho deciso di provarlo So che lo perderò indubbiamente Però ci proviamo O tra l'altro, se avete visto, questo Colt ha una skin diversa Perché dopo aver ricevuto tipo gemme su gemme su gemme durante il gesto opening Alla fine sono riuscito ad avere più di 50 gemme La skin di Colt Rockstar costava 30 gemme, quindi ho riuscito a ricomprarla, no? Che me ne faccio se sono delle gemme? Mi ci scioppo i bauli nel negozio? Non lo farei mai Ecco, questo è il computer Mi sta caricando lentamente Mi sta caricando lentamente E poi mi dice T'è veramente alto per le attività Ma se non mi carica Ho capito, io esattamente come posso fare adesso Devo fare il video Ve lo fate voi di Brawl Stars? Ve lo giocano Ve lo fa la Supercell il video Ha deciso Qui la Supercell ha deciso che fanno il video al posto mio Poi ve lo caricano sul mio canale però Allora Riproviamo, vediamo se adesso funziona Non ci mettere troppo a caricare che se no mi bandisce la partita Ok Siamo finalmente in partita sull'assedio Questo qua Non ha capito un cazzo, eh? Infatti Quella Jessie là Chi è che mi stava colpendo? Eh, però Devo imparare bene a usare la Super Cioè Colt C'ha una bella Super Però se la uso così a caso È solo che è spettato Cosa Clunch sta a fare? C'è il robot nemico? No, no, no Ma tesori Se volete utilizzare bene il robot Dovete farlo tankare Non potete buttarvi così Voi Ma ho ucciso quel coso! Quel corvo di merda Quel corvo rachitico spastico Ti prendo a cartoni nei denti Ti prendo un corvo di merda Mi stava uccidendo quel bull Cioè se Se un Colt si fa uccidere da un bull È veramente È veramente lo schifo Sì, raga, ma prendeteli però sti pazzi Perché se no Continuano a fare robot No, un mortaretto magari lo lasciamo lì Con Bluestacks è impossibile giocare a Brawl Stars Ve l'ho sempre detto Però la gente vuole che gioca a Brawl Stars Se vi piace Brawl Stars Vogliono i video su Brawl Stars Se volete tutti i video su Brawl Stars Non ve ne frego cazzo di Royale Io gioco Sempre giocato a Royale E adesso tutti su Brawl Stars Guardalo lì Guarda Va Vai Spacca tutto Tanto è solo la nostra cassaforte Il mortaretto Ma sì Tanto Ci divertiamo Ma che non stiamo prendendo un pezzo dal 2005 C'hanno il dominio assoluto questi Sì ma non devi colpire a caso C'è una logica Di Io ho tutti i colpi Quella Jessie che mi uccide Oh chi è che ha preso un pezzo Ragazzi Raga Finalmente stanno iniziando a prendere i pezzi Minchia Dopo che abbiamo perso praticamente la cassaforte Eeeh Ben in livello 9 Come lo ammazziamo noi Quel coso là Gigantesco No 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 Bull Di merda Spaglino Mi ha ucciso Di nuovo Eh questa è persa di brutto Credo che non faccio tipo Il miracolo Che non sono in grado di fare i miracoli Va bene Come lo schifo Proviamo a metterci bull Dai Anche se colte c'è la 7 Bull al 5 Però Proviamo dai Non si sa mai Sì Come avete visto Già che c'è una mega cassa E una cassa E due casse brawl Però Non le apro Per il fatto che Almeno così Posso fare C'è sto opening per bene Non c'è sto opening a random Uccido brutta Stronza Mortaretto Mi ha piazzato Se no lo uccidevo No abbiamo perso un pezzo Devo prenderlo Devo prenderlo Devo prenderlo Lo devo prendere È mio È mio sto pezzo È mio 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 Me lo tengo No Però no Raga Non dovete lasciargli prendere i pezzi Che se no è finita E mi ha ucciso Lo stavo attaccando Io come fai ad uccidermi Io non ho parole Veramente Non Non parlo manco Perché se no è finita Ok Gli ha ucciso Jesse Vorrei che Non è che devo uccidere Jesse Io devo uccidere quel coso gigante Ma quanti danni fa Vabbè sto tankando io Perfetto Non abbiamo preso neanche troppe botte Per me il prossimo pezzo Spawnerà in questa zona Spawnerà E vedete i miei compagni di classe Di classe Buona I compagni di squadra Quella fanno Non lo prendono il pezzo Ma sì Tanto qua La partita Ce la regalano loro Ce la regalano la supercell La partita Guarda che adesso prendono Il quarto pezzo Lo sapevo io Lo sapevo Che cazzo Tutti che Oh tutti li attaccati Come Come lo schifo Eh Tutti li attaccati Così non Non prendiamo un cazzo adesso Ok ho ucciso quel Coso là Adesso vediamo se riesco a uccidere Qualcuno dei loro Quella Jesse lì forse È il mio buon bersaglio Un ottimo bersaglio direi Non era evidentemente Un bersaglio così ottimo No 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 Tancatevi i colpi Tancatevi i colpi Siamo comunque in vantaggio Non so chi è andato ad attaccare La loro cassaforte Pregiudicandosi la vittoria Dobbiamente Però Buttalo 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 il pezzo Sono morto Ma sono riuscito a dare il pezzo Alla squadra Sono morto Ma sono riuscito a dare il pezzo Alla squadra Ci sta un sacco Come cosa Oh no no Il pezzo Così di merda Guarda Hanno nove pezzi Nove pezzi Ma come li battiamo noi Guarda che stiamo perdendo Come lo schifo Adesso basta che ci pusci uno E via Nel senso Verrà sicuramente quel bull lì A pusciare Vabbè noi proviamo a farci i robot Mi ha ucciso come E bull L'attacca Infatti Abbiamo perso Perché lo sapevo Che quel coso li tancava Lo sapevo Lo sapevo Otto dufei Cosa No ragazzi Non ci voglio credere Questo assedio Sta andando peggio Di quanto mi immaginassi Non è che dico Che pensavo Che vincere Però Non così malamente Perché un bull Si è tancato ai colpi E l'ha andato a picchiare C'è uno con bo Molto subito tra l'altro Sì ho i pezzi Adesso ce li teniamo tutti noi Mi dispiace Ma sono il tuo counter Quindi Non sperare di battermi C'è un broker laggiù Che voleva rompere le balle Avrebbe voluto rompere le balle Ma non ce l'ha fatta Ragazzi siamo a 5 pezzi Bella 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 Venita laggiù Ok adesso andiamo dietro al robot Lo lasciamo tankare E vediamo di spaccare tutto Ok Spacchiamola 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 Cos'è che mi ha attaccato? No vuoi dimmi che era la cassaforte loro che mi attaccava Il robot nel frattempo è andato a picchiare lì il devasto Fum Morto 1 Morto 2 E ci teniamo tutti i pezzi Doveva avere il pedio minio sul 100 Non possiamo lasciargli prendere dei pezzi Ah sono morto Vabbè Gi sta Cioè sono entrato nel loro campo Mi sono fatto ammazzare da Da lì da 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 Coso Cososo Venita muori Muori Rest in peace E che il robot sta facendo il devasto Lo vedo dalla baga della salute Facciamo il devasto Spacchiamo la cassaforte Già che siamo qua Sì Abbiamo vinto questa E ci da 10 trofei Ma Bubu non ha fatto un cazzo Come fare il sei migliore Assomma lo voglio Lo voglio capire Io Ho spaccato il team da solo Più volte E quello si vende migliore Ragazzi non ci siamo Non ci siamo Bene Riega per questo video è tutto Se il video vi è piaciuto Come al solito Lasciate un commento Mi piace E iscrivetevi al canale Se siete nuovi Se invece siete già nuovi E non siete ancora iscritti Al canale Telegram Mi raccomando Entrate Link in descrizione Troverete ogni volta I video che faccio Cioè quindi Li spamo praticamente sul canale Sondaggi Discussione sul gruppo Telegram Che trovate sempre qua sotto E vi consiglio di entrare Entrambi Però se invece Volete entrare su uno Che volete Cioè Io ve lo sto consigliando Perché è molto utile Per questo canale E niente Io direi che Ci vediamo nel prossimo video E se avrò Quando avrò abbastanza gemme Non ho no Le skin di Bull Mi fa schifo Shopperò un'altra skin Quando avrò abbastanza gemme E niente Io vi saluto Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti